volevo fare l'americano quindi popcorn tipo nuggets ovunque il metto con le birre ti piaceva anche è bellissimo perché accanto a me tutti ce l'avevano così arrivo a posto mi faccio spazio sorry sorry così mi siedo sento faccio vabbè è cascato il telefono una letta di bollo sì sì tocco fatto sta è come la sensazione è stata questa tocco il pavimento e poi scompare e ho fatto no quindi tipo sì 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 ok ho un problema sì sì ero solo ero a New York lì a tosta tipo guardo il poliziotto che era lì lui faccio man sorry I got a problem like I dropped my phone e lui tipo mi guardava faceva eh auguri lo stadio lo smontano domani faceva no a me mi serve sono fuori anche perché ci chiamavo gli uber facevo di tutto no 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 aspetta non hai idea lui mi fa vabbè non ti preoccupare in Italia probabilmente avrebbero detto guarda mi dispiace non aspetterai lui mi ha guardato stavo per piangere gli facevo ti prego mi serve perché era a New York da solo lui fa aspetta chiamo uno quindi per tutta la partita l'ansia perché appena arrivato cioè mi sono seduto col cibo così appena arrivato era una partita tipo contro Washington niente di che appena arrivato mi casca il telefono lui per tutta la partita mi guarda e diceva aspetta aspetta fatto strancio ad un punto mi chiama Angelo Custode mi chiama mi fa è questo? era un iPhone il Sansu no non è questo lui fa ti sa da quanti anni era lì mi fa ok questo non è il tuo fa ma lo vuoi faccio no vabbè non posso cosa vuol dire